Nel 1981 la Roma di Di Bartolomei sale ancora più in alto. Sono pochissimi i centimetri che separano i giallorossi dal traguardo tanto ambito, la vittoria dello Scudetto. Pochi, come i famosi centimetri della discordia, quella che si consuma con la solita Juventus. Una partita durissima. Al diciassettesimo minuto del secondo tempo, Furino viene espulso per un fallo su Falcao. A dieci minuti dalla fine, la palla da Conti arriva a Pruzzo e infine a Turume. L'arbitro convalida, salvo poi ricredersi su segnalazione del guardalini. I giocatori sono attoniti. In un solo istante vedono svanire i sogni di gloria. È una decisione che riporta il popolo giallorosso alla realtà. Lo Scudetto per ora resta un miraggio e quel gol per i tifosi romanisti rappresenta ancora oggi un'onta mai cancellata.